Marco Maloberti, 22 anni, piacentino, è il tassista più giovane della provincia. Da due mesi si è tuffato in questa esperienza. Con gli amici guido sempre io e adesso lo faccio anche di mestiere, ci ha raccontato Marco, che ha trasformato la passione per la guida in un vero e proprio lavoro. Lo abbiamo incontrato di fronte alla stazione di Piacenza, a bordo del suo taxi, nuovo fiammante. Ha preso la licenza e si è iscritto all'albo degli artigiani due mesi fa. A me piace molto guidare, poi tra i miei amici sono uno dei pochi con la patente, quindi guido sempre. Ho pensato che come lavoro avrebbe potuto piacermi anche questo lavoro e ho provato. I clienti gli chiedono se non sia troppo giovane per fare l'autista, ma lui non ha dubbi. Mi chiedono come mai ho scelto di fare questo lavoro, se non sono troppo giovane, ma io penso che provare non costa niente, quindi se poi un giorno mi stancherò, non mi piacerà. Però devi fare questo lavoro. A trasmettergli la passione è stato soprattutto il padre, autista di Pullman, da 30 anni. È lui che si è occupato appunto di tutte le pratiche burocratiche, finanziarie, e lo ringrazio tutti i giorni per questa cosa. Il lavoro di tassista lo impegna anche oltre 10 ore al giorno, ma Marco non si lascia intimorire. Non è un lavoro molto stancante, stanca a livello psicologico un po', ma è sicuramente meglio che lavorare in fabbrica. Ecco, quante ore ti impegna al giorno? È una decina, 10-12 ore al giorno. I tuoi colleghi sono contenti, che cosa ti dicono? Ma mi hanno aiutato tutti molto ad integrarmi con la radio e il lavoro, io posso solo ringraziarli. È un mestiere un po' particolare, cosa ti senti di consigliare anche agli altri giovani che magari appunto sono senza lavoro? Io consiglio sempre di cercare lavoro, anche i lavoretti che magari sembrano pagare poco è sempre meglio farli, perché portare a casa uno stipendio è comunque utile a se stessi e alla famiglia.